Io credo che nella nostra epoca sentirsi immuni dalla pazzia sarebbe una forma di pazzia. Sì, certo, i matti non mancano. Anzi direi che la pazzia è un po' la normalità. Quello che manca, casomai, è una forma di pazzia un po' più geniale, perché quella che c'è in giro è una pazzia appunto normale, piatta, banale, di una banalità oltretutto contagiosa. Io infatti intossico talmente a contatto con il mio prossimo che ogni tanto sono costretto a ritirarmi in campagna per disintossicarmi. Se non che a quel punto, non avendo più gente intorno, mi prende la paura che il mio odio per l'umanità sia diminuito. Allora ritorno in città e mi incazzo, mi incazzo, mi incazzo, mi riviro, mi incazzo. Insomma, non riesco a risolvere quell'assurda contraddizione che si potrebbe chiamare mania di solitudine e di mondo.